Siamo davanti al comune di Radicondoli, i cittadini manifestano perché sono contrari a nuove centrali nel comune di Radicondoli e pare che oggi ci sarà la visita del signor Bocco. Buongiorno, perché è contrario a queste trivellazioni? Leggiamo i vostri cartelli. Perché essere contrari? Molto semplice, perché questo è uno sviluppo che non ci piace, è uno sviluppo pericoloso, è uno sviluppo che va contro le nostre politiche, le nostre idee, è uno sviluppo ecosostenibile e questo è tutt'altro che ecosostenibile. Questo continua a ingrassare le tasche di quattro soliti politici parlamentari ricchi, non porta niente al nostro territorio ma bensì distrugge tutto ciò che abbiamo creato negli anni. Sembra che a Radicondoli si sia sviluppato un bel mercato sull'agriturismo? Esatto. Noi stiamo lavorando da anni per costruire una bella rete di turismo, un turismo per persone che amano la natura, per persone che amano il quieto vivere, le nostre colline, i nostri prodotti. Tutto questo non può altro che distruggere il lavoro che abbiamo fatto negli anni. Noi come privati, noi come cittadini, con le amministrazioni e via dicendo. insomma. Grazie. Prego.